degli anni 70, insomma supereremo anche questo e torneremo agli eventi come dire senza paure come fino a qualche anno fa è stato. Dal messaggero Sedotti da Don Giovanni, siamo a Spoleto che oggi apre alle 19 la sessantesima edizione del Festival del Due Mondi, peraltro dice il sindaco ma anche il presidente della fondazione Festival Cardarelli, la biglietteria sta andando molto bene, i teatri si prefigurano pieni come anche gli alberghi, finalmente un segno positivo che arriva da questa stagione che finora segni positivi da questo versante non ne aveva avuto, quindi probabilmente come dicevamo nei mesi scorsi l'inversione di tendenza sul turismo in crisi dopo il terremoto arriverà proprio con questa stagione. Ce lo auguriamo, l'Umbria sta mettendo in campo tutto il meglio che ha da un punto di vista storico, naturalistico e culturale, quindi speriamo che questi mesi da qui all'estate riportino veramente una ripresa reale.